Quasi il 5% degli abitanti di Pizzoferrato ha contratto il covid. Focolaio nel comune in provincia di Chieti ha seguito della festa dell'uccisione del maiale. La macellazione del suino, abitualmente compiuta nel mese di gennaio, è un antichissimo rito rurale, corroborato da una precisa liturgia a cui possono partecipare diverse famiglie, cui membri si adoperano tutti insieme attorno alla carcassa dell'animale. C'è chi spolpa, chi seleziona i pezzi di carne adatti alle varie preparazioni, chi macina e chi insacca. Un vero e proprio saturnale, ancora molto sentito, specie nelle comunità contadine più piccole. Il maiale ucciso in inverno infatti diventa poi fonte di nutrimento per tutta la durata dell'anno. Una risorsa di carne importantissima, tanto che tradizionalmente il momento dell'uccisione è accompagnato da un proverbiale elogio al suino, morte a te e salute a chi ti mangia. Quest'anno però a Pizzoferrato la festa del maiale non ha portato salute, ma semmai il contrario, il Covid infatti sarebbe saltato di persona in persona durante l'assembramento dovuto alla macellazione, 42 gli individui contagiati a fronte di una popolazione di circa 1000 abitanti. Per questo il sindaco Palmerino Fagnilli ha subito emanato due ordinanze. La prima dispone la sospensione dei mercati e la chiusura delle scuole, materna, elementare e media, fino al 16 gennaio. Scuole che sono state sanificate questa mattina. La seconda ordinanza invece riguarda DOC, proprio la macellazione dei suini. Questa prevede di limitare la presenza di persone non conviventi a chi è strettamente necessario all'uccisione e alla lavorazione del maiale, oltre ovviamente a chi non presenta sintomi influenzali e non ha avuto recenti contatti a rischio. La ASL ha predisposto tamponi a tappeto nel paese tramite una postazione mobile del 118 allestita nei pressi del municipio. Le operazioni di screening però non sono di certo facilitate dalle forti nevicate degli ultimi giorni.